fumata bianca sulla nuova legge urbanistica delle marche dopo pesero acquarole anche urbino e fano per consigli comunali sulla sanità aiuto ai più poveri progetti della campagna d'avvento caritas cantieri a fano si riqualificano piazza marcolini e liceo torelli partono le iniziative natalizie di gabice maremonte buonasera pubblico di rossi rossini tv ben ritrovati al nostro spazio informativo serale di rossini news telegiornale del canale 80 che in questa edizione di mercoledì 29 di novembre apriamo con la politica della regione mar che ci sono volute 45 ore di sedute di consiglio regionale prima di approvare la nuova legge urbanistica della nostra regione per la giunta acquaroli viene dunque rinnovato un impianto legislativo vecchio di 31 anni all'insegna della rigenerazione urbana e dello snellimento burocratico dopo cinque sedute di consiglio regionale un dibattito fiume è stato approvato il testo della nuova legge urbanistica della regione marche una legge fortemente criticata dall'opposizione ritenuta invece un punto di partenza per la giunta acquaroli verso un nuovo percorso all'insegna della sburocratizzazione della tutela del paesaggio e della rigenerazione urbana nel segno del ridotto consumo di suolo un testo che punta ad andare in controtendenza al vecchio impianto legislativo risalente al 1992 la legge necessaria perché la legge precedente risale a 32 anni fa quando la programmazione era completamente diversa le esigenze dei territori erano completamente diversi questa legge è una legge molto innovativa che tra virgolette obbligherà tutti gli enti locali della regione marche a rivisitare la programmazione dei propri territori a uniformarli tra loro infatti prevede un nuovo piano paesaggistico entro il prossimo anno poi prevede entro i sei mesi successivi un piano territoriale regionale ulteriormente rivisitato nei sei mesi successivi il piano territoriale di coordinamento delle cinque province e successivamente nei due anni successivi anche tutti i nuovi piani urbanistici generali cioè gli attuali piani regolatori dei comuni che dovranno essere tutti rivisitati nuovi criteri che tendono in generale a prevedere un consumo di suolo minimo indispensabile non dico zero perché zero è sempre impossibile arrivare a questo obiettivo ma che punta molto sulla rigenerazione urbana, sul riutilizzo di territorio già utilizzato quindi l'efficientamento energetico, il costruire sul costruito è un po' come dire abbelliamo la nostra regione e rendiamola più sicura su quanto già è stato costruito, su quanto già è stato utilizzato è una nuova fase che saprà dare le risposte e soprattutto saprà valorizzare un percorso comune e questo è il succo di questo nuovo articolato io non nascondo la volontà di migliorarlo laddove sarà possibile migliorarlo e di anche sistemare quelle che potranno essere le difficoltà che calando questo articolato, questa nuova legge sul territorio nella pratica si potranno trovare credo che sia sinonimo di intelligenza e di volontà di anche saper umilmente mettersi a disposizione di quelle che sono le sfide complicatissime che una materia come quella urbanistica comporta La legge entrerà in vigore dal 1 gennaio 2024 ma non mancheranno le deroghe rivolte a cercare un impatto soft Non potevamo immaginare e pensare che andando in applicazione del primo del prossimo anno tutti quanti nell'immediatezza potessero adeguarsi tant'è che abbiamo scaglionato nel tempo, appunto 4 anni, queste scadenze e abbiamo lasciato per i primi due anni anche una certa, tra virgolette, libertà all'amministrazione comunale di continuare i loro percorsi non abbiamo impedito eventuali nuovi varianti, non abbiamo impedito nuovi sviluppi sui territori perché ci possono essere tante amministrazioni comunali in questo momento che stanno portando avanti dei percorsi che andandogli a interrompere nel giro di poche settimane avremmo indubbiamente fatto un danno allo sviluppo, diciamo così, del territorio E dopo il consiglio monotematico sulla sanità tenutosi a Pesaro lo scorso 7 novembre la giunta a Quaroli organizzerà analoghi consigli monotematici anche ad Urbino e a Fano su sollecitazioni delle stesse amministrazioni Lunedì 4 dicembre alle 17 il presidente della regione e l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini interverranno al consiglio comunale di Urbino per relazionare sulla riorganizzazione dell'ospedale e i presidi delle aree interne analoghi temi che saranno trattati nel pomeriggio del 7 dicembre nel consiglio comunale di Fano Cresce il numero di soggetti minori in stato di povertà nella città di Pesaro Cresce anche l'emergenza abitativa così come l'esigenza di sostegno sanitario Questi i progetti portati avanti dalla Caritas di Ocesana che sono stati oggetto della presentazione di oggi della campagna d'avvento 2023 A pochi giorni dalla presentazione della fotografia sulle emergenze sociali del territorio presentato dal primo osservatorio povertà di Pesaro la Caritas di Ocesana ha illustrato oggi anche la campagna d'avvento 2023 momento prenatalizio in cui Caritas invita ad una riflessione sulla carità come esperienza concreta dell'essere comunità Quattro i progetti su cui si concentra la campagna d'avvento il sostegno ai minori, l'ospitalità per chi non ha casa i pasti per la mensa e il sostegno farmacologico Nel nostro report annuale abbiamo appunto evidenziato come su oltre 3.800 persone che sono state quelle raggiunte da Caritas nel 2022 ben un terzo sono minori come appunto ormai è scientificamente provato purtroppo minori che vivono all'interno di famiglie in povertà sono più a rischio di avere un futuro di povertà quindi con il nostro intervento cerchiamo per quello chiaramente che riusciamo a spezzare questa catena di ereditarietà della povertà e sostenendo questo progetto si sostiene proprio la vita e lo sviluppo il più possibile sociale e normale dei nostri minori quindi aiuto per quanto riguarda il sostegno scolastico per quanto riguarda la possibilità di fare sport e ecco tutto quello che può concernere diciamo una vita di socialità e di normalità e per quanto riguarda invece il sostegno alla salute Caritas da tanto tempo si occupa sia di persone che non hanno l'accesso all'assistenza sanitaria per mancanza di documenti, mancanza di residenza e anche di persone che non riescono a curarsi per diciamo problemi economici quindi nel 2022 il nostro centro di ascolto per la salute ha realizzato quasi 900 interventi e anche il nostro impegno economico per le spese sanitarie negli ultimi 4 anni è aumentato del 70% quindi capiamo come anche questo ambito sia veramente un punto ecco dolente nei vari bisogni del nostro territorio il terzo progetto è quello dedicato a un pasto al giorno cioè alla mensa Caritas quindi alla possibilità di sostenere questa distribuzione di pasti che nel 2022 è stata superiore alle 18.000 unità questo perché appunto la mensa Caritas è aperta 6 giorni su 7 è aperta durante le festività come lo sarà per il periodo natalizio e raggiunge ogni giorno circa 60 persone che non ci dobbiamo immaginare solo persone di passaggio ma sono persone anche stabili, stanziali e residenti nel nostro territorio infine l'ultimo progetto è quello dell'ospitalità notturna tocca appunto un tema che sappiamo essere molto delicato che è quello dell'emergenza abitativa tra il 2021 e il 2022 abbiamo aumentato i nostri posti letto per appunto persone senza dimora che sono passati da 24 a 35 e anche il nostro, anche in questo caso impegno economico è diciamo aumentato e per un terzo è dedicato proprio a sostenere l'emergenza abitativa di chi si presenta in Caritas quindi donando per questo progetto le persone potranno aiutarci a sostenere i nostri centri di accoglienza i nostri interventi per le famiglie in difficoltà Progetti che si possono sostenere con donazioni economiche o semplicemente rimboccandosi le maniche accrescendo la rete di volontari di Caritas Tutto parte diciamo dal nostro sentirci comunità nostro sentirci solidali con tutte le persone e quindi vivere e camminare nella logica della fraternità e allora diciamo ecco nel momento che si realizza sul territorio tra le varie realtà presenti questa risposta stile famiglia come io dico spesso che è una risposta di fraternità e a quel punto diciamo anche Caritas si impegna e risponde per aiutare le persone che approcciano a noi, che chiedono aiuto proprio nella prospettiva diciamo ecco di una risposta che rappresenta una comunità che si fa carico dei bisogni delle persone Dal sostegno ai poveri al sostegno alla ricerca oncologica quello a cui si dedica da anni la Fondazione Francesca Pierozzi e che lo farà anche venerdì primo dicembre con due appuntamenti a Fano La Fondazione Pierozzi nata in memoria di Francesca che venne a mancare per un linfoma 24 anni continua a lavorare sui concetti di utile ed ideale Da anni la Fondazione ha infatti l'obiettivo di creare informazioni utili a chi si ammala come Francesca ma soprattutto di generare fondi per la ricerca La Fondazione sostiene un progetto del Dipartimento di Scienze e Biologia Molecolare dell'Università di Urbino dove un gruppo di ricerca grazie a nuove strategie sperimentali sta ottenendo interessanti risposte nei modelli cellulari tumorali In prossimità del periodo natalizio la Fondazione ha dunque organizzato due importanti iniziative una serata di gala e una mostra per continuare a sostenere la sperimentazione oncologica appuntamenti a Fano venerdì primo dicembre Una cena, abbiamo chiamato serata di gala dove mettiamo a tavola 100 persone e parleremo di sana alimentazione che è un po' il tema il filo conduttore che ci ha accompagnato da là che ci ha dato Francesca dalla sua tesi in alimentazione e chemioterapia quindi queste 100 persone in un percorso di degustazione avremo medici, produttori vari personaggi del territorio e i ricercatori quindi parleremo anche dell'avanzamento e della ricerca è sempre venerdì primo e questo durerà invece per un mese per tutto il mese di dicembre abbiamo preso nei classici Temporary Store abbiamo preso un negozio in centro Fano in via Matteotti 163 dove ci sarà una mostra di oggetti di opere d'arte cose che ci hanno donato e saranno messe all'asta quindi un altro modo per contribuire con qualcosa magari di concreto che non si può portare a casa nel nostro progetto Nella città di Fano sono in corso diverse opere di riqualificazione del centro storico tra queste quella di Piazza Marcolini come postato sui social dallo stesso sindaco Massimo Seri Piazza Marcolini un gioiello della nostra città che per troppo tempo è rimasto nascosto anche in una situazione di degrado devo dirvi che da quando sono stato eletto tantissime erano le manifestazioni di disagio per questa situazione oggi in realtà ci troviamo in una situazione diversa stanno proseguendo i lavori di riqualificazione a breve saranno terminati siamo qui proprio per vedere l'andamento del cantiere come vedete si stanno realizzando i cordoli poi subito dopo fra qualche giorno partirà la realizzazione della pavimentazione ma non ci fermiamo qua abbiamo già realizzato anche i sottoservizi toglieremo tutti quei cavi aerei che servivano per l'illuminazione per i servizi delle abitazioni verranno anche questi tutti interrati poi andremo a recuperare la fontana la vecchia stella realizzata dai ragazzi dell'istituto Appolloni che devo ringraziare perché anche in questo caso l'hanno restaurata la cosa bella è che nella fontana ci sarà anche tutta un'illuminazione non solo interna ma anche sotto che dà quella sensazione magica come se la fontana si sollevasse fosse sospesa ma non ci fermiamo qua perché la valorizzazione sarà anche con un'illuminazione suggestiva emozionale per valorizzare anche Palazzo Marcolini quindi veramente una restituzione alla città un luogo che diventerà un punto di riferimento renderà ancora più bella Fano che lo è già e restando a Fano in tema di lavori pubblici passo avanti importante all'eceo scientifico Torelli con la consegna delle cantiere per la partenza di lavori di adeguamento sismico e bonifica dell'amianto l'operazione complessiva per la scuola monta 2.261.000 euro con fondi PNRR intercettati dalla provincia e Pesaro invece muove un passo decisivo per diventare capitale della accessibilità sabato 2 dicembre in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità la sala del Consiglio Comunale accoglierà dalle 9.30 la presentazione delle PEBA il piano per la eliminazione delle barriere architettoniche ad illustrarlo saranno il presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini la garante dei diritti per la disabilità Marusca Palazzi e l'ingegnere dell'Università Politecnica delle Marche Elena Bellu torna invece nelle cortile di Palazzo Gradaria Pesaro la bottega evento ingresso gratuito contenitore di varie forme artistiche e maestria degli artigiani l'appuntamento in programma dall'1 al 3 dicembre dalle 10 alle 21 per tornare dopo due fine settimana dal 15 al 17 dicembre negli stessi orari insieme agli espositori che coloreranno la corte nei due fine settimana anche artisti musicisti e stand dedicati all'abbigliamento e ad accessori vintage domani sera giovedì 30 novembre alle 21 e 15 si terrà nel Duomo di Pesaro una serata dedicata alla pace in Terra Sante interverranno con un videomessaggio il Patriarca di Gerusalemme dei latini Monsignor Pier Battista Pizzaballa e in diretta dall'Israele padre Ibrahim Falta vicario del custode di Terra Santa interverranno poi in cattedrale Don Marco Di Giorgio e il professor Gabriele Falciasecca prima di un momento di preghiera del vescovo Sandro Salvucci grandi nomi dello sport sono in arrivo ad Urbino lunedì 4 dicembre quando dalle ore 9 nell'aula magna dell'area Paolo Volponi si terrà il convegno dal titolo giochi sportivi dall'allenamento alla performance o dalla performance all'allenamento tra i tanti relatori ci saranno Alessandro Campagna CT della Nazionale Italiana di Pallanuoto Andrea Capobianco capo allenatore della Nazionale Femminile di Pallacanestro Cesc Fabregas ex giocatore di Barcellona Chelsea e Arsenal nonché attuale allenatore del Como Daniele Orsato arbitro di Serie A eletto anche miglior arbitro del mondo nel 2020 e Davide Mazzanti ex CT della Nazionale Italiana di Pallavolo femminile aspettando il Natale a Pesoro ci saranno ben sette mercati cittadini nel solo mese di dicembre è infatti previsto il mercato straordinario al San Decenzio nelle domeniche di 3, 10 e 24 dicembre occasioni che andranno ad aggiungersi a quella ormai consueta della stradomenica in Piazzale Carducci e a quelle proposte il martedì con il mercato ordinario non è invece previsto il mercato martedì 26 dicembre giorno di Santo Stefano in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino liceo artistico Mengaroni e biblioteca Oliveriana portano a compimento un progetto di rilettura delle città invisibili che diventa una mostra a Palazzo Almerici saremo presenti qua alla biblioteca Oliveriana il 2 di dicembre per celebrare la chiusura di un progetto che ci ha impiegato per ben due anni scolastici dedicato a Italo Calvino preso a pretesto di Italo Calvino il libro delle città invisibili alle quali abbiamo lavorato elaborato nei due versanti sia quello letterario che quello di immagine però parallelamente i ragazzi hanno a volte con le varie tappe dato forma a quella che è la loro città invisibili e quindi il nome è diventato le città visibili in città visibili che sono le loro città e i ragazzi hanno formulato delle immagini 30x30 diversificate con tecniche elaborazioni e quanto altro e potranno essere visibili qua esposte gli originali esposti nelle teche sicuramente le città invisibili che sono iniziate nello scorso anno scolastico nel febbraio 2023 trovano oggi un giusto proseguo un approfondimento che da parte dei ragazzi è davvero nobile ringrazio il liceo artistico le docenti che conducono gli studenti in questo viaggio nella conoscenza e anche all'interno di un percorso molto più ampio che è una riflessione sulle città questo connubio di forze un ringraziamento va anche alla biblioteca e al museo liveriani che sono sempre sensibili nell'accompagnare i ragazzi in questi percorsi di crescita e di conoscenza il progetto che è iniziato lo scorso anno è dedicato alle città invisibili di Italo Calvino proprio nel centenario peraltro di Italo Calvino e verranno presentati ed esposti gli elaborati sia grafici che testuali degli studenti e verrà anche raccontato il progetto verranno descritte anche le diverse fasi magari anche gli studenti i ragazzi avranno qualcosa da raccontare noi ce lo auguriamo e quindi l'appuntamento è per sabato mattina 2 dicembre alle 10 e mezza qui nella sala dello Zodiaco della Biblioteca Oliveriana e come vi stiamo mostrando in questi giorni continuano le celebrazioni degli eventi natalizi nella provincia di Pesaro e Urbino molti appuntamenti sono partiti lo scorso weekend altri lo faranno nel prossimo come l'iniziativa del Natale di Gabice Mare che vi andiamo a illustrare in questo servizio un calendario molto ricco molto fitto di impegni che inizieranno l'1 dicembre con la tradizionale accensione delle luci quest'anno un tema particolarmente sentito che è quello della stella quindi i nostri addobbi natalizi e luci natalizie richiameranno il tema della stella che poi si riconduce a quello che era stato oggetto della nostra presentazione il 10 agosto a notte delle stelle a Mississippi in cui abbiamo lanciato questo messaggio come continua valorizzazione del brand Gabice Maremonte legato al Segui la sua luce quindi in questo modo con le luci di Natale vogliamo che la gente possa continuare a seguire la luce iniziative specifiche per i bambini dove ci sarà Babbo Natale che arriverà dal mare la possibilità di consegnare la letterina dei momenti di festa animazione in piazza a delle iniziative più culturali più strutturate che avranno luogo nel nostro Mississippi candidato ovviamente come il nostro luogo della cultura ha iniziative per una fascia più adulta di intrattenimento concerti per tutte le età corri del territorio e associazioni di volontariato tutte associazioni sportive che quest'anno per la prima volta scendono in campo insieme all'amministrazione comunale per organizzare un importante evento nella zona sportiva di festa per tutti i bambini la banda del San Bartolo che andrà a camminare per le nostre strade quindi veramente un calendario molto ricco abbiamo scelto come tre principali eventi quello naturalmente del presepe vivente quest'anno festeggeremo i vent'anni di attività quindi a Gabicce Monte ci ritroveremo il 26 dicembre e il 6 gennaio anche con l'arrivo della Befana e un appuntamento invece è stato anticipato al giorno 19 e a Ponte Tavollo dove era nato proprio questa iniziativa del presepe vivente con tutti i figuranti la musica è la colonna sonora del Natale e come ogni anno dedichiamo dei concerti nel nostro teatro Astra Gabicce Mare il primo sarà quello dei bambini della scuola che il 15 si esibiranno ma il vero concerto è quello del 16 di dicembre dove il coro lirico della regina il coro di San Termete di Gabicce Mare con 11 professionisti con 6 solisti presenteranno un ricco programma e la serata sarà devoluta in beneficenza e ricavato dei biglietti altro appuntamento importantissimo è quello del Gospel che il 29 ritorna con Fano Jazz Network per presentare uno dei cori più importanti americani che vengono in tournée in Italia e faranno questa tappa nel nostro teatro il 29 di dicembre vorrei fare anche un accenno al mese di gennaio perché il 5 di gennaio abbiamo la ricorrenza del ventennale della morte di Guerrino Bardeggia un nostro artista locale conosciuto in tutta Italia gli dedicheremo una mostra particolare nella sala del consiglio già a lui dedicata con delle opere inedite per ricordarlo e per far vivere ancora le bellezze delle tele della ceramica e di tutti i bassorilievi che ha creato in tanti anni di attività proprio qui nella sua città natale e si conclude qui Rossini News non si concludono però gli spazi informativi in questa serata perché subito dopo il Tg alle 20.10 parleremo di educazione finanziaria delle pillole di educazione finanziaria del nostro format La Finanza e per Tutti realizzato in collaborazione con Banca UIDIBA parleremo questa sera del mutuo tasso fisso o variabile lo faremo con Rubens Camilloni consulente finanziario come detto appuntamento alle 20.10 e poi replica già questa sera alle 22.30 e poi le altre repliche che vedete in grafica dal giovedì al lunedì a seguire prima serata che continua all'insegna della magia natalizia quella di Candela Candelara vedremo il primo sabato della ventesima edizione la prima giornata di nove che sono previste a Candelara ventesima edizione che vi proporremo questa sera alle 21.20 a seguire andremo a vedere invece è Natale a Monbaroccio dagli estimenti natalizi giunti invece alla ventiquattresima edizione per quello che riguarda il borgo di Monbaroccio argomenti che vi abbiamo anticipato vi abbiamo dato un assaggio in questi giorni nel nostro telegiornale vedremo tutti gli approfondimenti questa sera alle 21.40 e poi come sempre vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini il nostro spazio di lettura dei quotidiani del mattino che vi tiene compagna come di consueto dal lunedì al sabato altra diretta di altro genere quella del giovedì sera quella della nostra Elisabetta Ferri del suo salotto di insieme a canestro con tanto di focus sulla carpegna prosciutto basket pesero puntata di domani che vedrà come ospite il responsabile dei rapporti pubblico e tifoseria Alessandro Mengucci e il giornalista Mirko Faccenda come sempre poi c'è la possibilità di commenti in diretta di voi tifosi telespettatori al numero whatsapp dedicato 370-366-7210 appuntamento come detto con insieme a canestro domani come ogni giovedì alle 21.20 in diretta ed è davvero tutto per questa edizione del telegiornale Rossini News si chiude qui vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi